Vi ho dato tutti i numeri e i dettagli. Stiamo parlando di una platea di circa 10 milioni di italiani che vanno a prendere 10 miliardi di euro su base annua, che vuol dire 1000 euro su base annua, che vuol dire ragionevolmente in media 80 euro netti al mese per 12 mensilità. Le coperture che ad oggi ci sembrano aleatorie o addirittura preoccupanti, come quando dicono che mettono 80 euro in busta paga ma che tolgono 65 euro dalle detrazioni per i coniugi a carico. Valuteremo il merito, speriamo che gli italiani non si accorgano troppo tardi che i soldi non c'erano. Appunto, nelle slides che abbiamo letto ci sono ancora interventi sulle pensioni, ancora interventi sull'atalità, ci sono interventi sui servizi essenziali. Se si tagliano miliardi di euro alle ferrovie, alle poste o al trasporto pubblico locale vuol dire che o non si hanno i servizi oppure si aumentano i biglietti e le tariffe. Quindi diamo 80 euro al lavoratore con l'IRPEF e ne tagliamo 100-150 con i biglietti del trasporto pubblico locale, il treno, l'elettricità e quant'altro. Chi dice che sono troppo pochi non conosce evidentemente le condizioni reali della vita delle persone, perché 80 euro al mese significa poter andare a mangiare due volte fuori, significa poter fare la spesa per due settimane, significa insomma assicurare un po' d'ossigeno alle famiglie italiane.